Un, due, un, due, forza! Questo lo pubblico subito Bravi, bravi Benissimo Guarda là, va! Sciature! Sciature proprio! Proviamo il passo alternato, va o là? Passo alternato a... Dai, facci vedere un poco, dai! Ed ecco i ragazzi alle prese con sciolinatura Con il grande maestro Emilio che sciolina tutti Guardatelo, guardatelo! Via! Allora, sciatoli! Eh, invece ma ci vuole! A me un po' di più Emilio, voglio correre molto stamattina, mi sento in forma! Ma... Perché? Sì? Siete scornose?